In vista della ripresa del prossimo anno scolastico si comincia a pensare alle scuole, alla situazione logistica e di sede. Per quel che riguarda le superiori che sono di competenza provinciale, la maggiore criticità negli anni è stata quella del Cotugno. Il liceo però tornerà a casa a Pettino prima di Natale, i lavori dovrebbero essere ultimati in autunno. Anche per il prossimo anno gli studenti avranno a disposizione un ulteriore MUSP liberato già assegnato in precedenza. Il Cotugno, come è noto, ha la maggiore criticità sull'inizia scolastica del Comune dell'Aquila, perché è la scuola più importante, oltre 15.000 metri quadrati e come sappiamo per i lavori in corso gli studenti sono allocati temporaneamente nelle strutture MUSP. Si conta per fine anno di finire tutti i lavori che sono stati non soltanto di miglioramento sismico ma anche di efficientamento energetico con un appalto complessivo di oltre 6 milioni di euro, quindi un intervento molto importante che ha fatto la provincia dell'Aquila e per fine anno l'obiettivo è far rientrare qui tutti gli studenti. Per le altre scuole non ci sono grandi criticità, già lo scorso anno ci furono piccoli interventi di edilizia per adeguare gli spazi alle norme Covid. Quest'anno ci sono state già delle interlocuzioni con i dirigenti per capire se ci sono nuove esigenze. Il maggior numero di studenti è concentrato a Colle Sapone, anche qui ci saranno alcuni aggiustamenti. La provincia poi ha partecipato anche ad un bando del MIUR. Già l'anno scorso su base provinciale furono investite circa 750 mila euro sull'area Avezzano, sul Mone e l'Aquila condividendo con i dirigenti scolastici gli interventi necessari per maggiori spazi, intesi come modifiche di aule o nuovi accessi, tutto ciò che potesse giovare in qualche modo al maggior distanziamento in chiave anti-Covid. Stesso schema che verrà replicato quest'anno, c'è stato anche un bando MIUR del mese di agosto, peraltro un po' tardivo bisogna dirlo questo. Abbiamo risposto con richieste per circa 550 mila euro su base provinciale, anche qui interventi di edilizia scolastica veloce condivisi con i dirigenti scolastici che attenzioniamo quotidianamente, si può dire, con tavoli continuamente convocati che porteranno certamente a un giovamento degli spazi a disposizione. In tutto questo ci sono due scuole da abbattere e ricostruire, l'Ipsiasar, l'alberghiero a Pineta Signorini e l'ex-ITAS in Viale Duca degli Abruzzi. Qui si sta procedendo con l'appalto di progettazione, i lavori potrebbero partire nel 2022 dal momento che l'ITAS non esiste più. Qui si sta ragionando in futuro per portarci un'altra scuola, potrebbero essere i geometri ma si è ancora nel campo delle idee.